Bentornati in diretta dal Teatro Troisi, non crediamo ai nostri occhi, all'ultima puntata del Peppi Night abbiamo Gigi D'Alessio! Allora Gigi, questa è una trascensione basata con queste buffunate, su queste cose che ci piace vincere facile e noi fino a ora avevamo fatto degli artisti, per l'amor di Dio, però noi non ce lo vediamo, cioè io non mi credo, quando tu mi hai detto... Ma manchi! E quella è la cosa, che tu hai basato tutto su un inganno, perché io gli ho detto guarda a Gigi mi è capitata una cosa, viene un attimo a farlo rotto, lui che è buono di cuore è venuto e la giornata è lì, cioè lui... Gigi sempre quando vai ad aiutare gli amici si fa a stare così, sempre! Elegante, di stile, anche quando dà una mano... Scusa, ma perché uno guarda uno se metto vestito e perché a Canale Ventura non ce l'ha da mettere? Guarda Gigi, ma stai facendo rivaluto pure a me Canale Ventura! E a fine mo' c'è stato sempre un rapporto di odio-odio... Invece non è male, ma stai facendo vero e meglio! Gigi, questa è un'intervista seria, perché giornalistica... Ha ragione lui! Se ti accomodi qui, questo è il tavolo più o meno come Fazio... Ma insomma... Non proprio eh! Allora Gigi, un po' di vino, un po' d'acqua possiamo... Che c'è il mussarello sul buono? No si, al volo se ti va, ci beviamo una cosina! Cominciamo proprio così! Ah, se vuoi, allora per introdurre... Se gradisci? C'è anche, non so, da adesso che frequenti Milano... Il piede del muso... Conosci? Il piede del muso... Tu preferisci il piede del muso o cento di quelle pelli? Allora ti dico una cosa... Il piede del muso è la cosa che amo di più! L'ho fatto mettere a posta per te! Non mi puoi stupire! Cioè mi meravigliavo, mi sarei meravigliato... Se non lo facevi trovare! E l'ho fatto trovare proprio il russo! Il vino sta solo vino o sta pure il cassoso? Volendo abbiamo falta... Il cassoso abbiamo... No, perché se c'è il cassoso non lo faccio! Se c'è il cassoso non lo faccio! Se c'è il cassoso non lo faccio! Andate alla pigna! Se c'è altri desideri sul cibo, noi siamo a posta per organizzare! Mi hanno fatto preparare il champagne e i gaffoni su questo tipo! Champagne, chi lo ha il cassoso? C'è spiazzato sempre! Non siamo abituati, capisci? Allora, chiedo scusa, vengo da Le Cucine. Il Servizio Espresso, qui abbiamo un po' di... Ecco, un prodotto... C'è miso e sale! Un limone non muo me ne ha in cuore, però... Cominciamo a bu... All'insegna della classe inizia l'intervista Peppe Iodici e Gigi D'Alessio! Allora Gigi, anche se hai il morso mocco ti volevo... Allora, tu hai avuto uno straordinario successo in tutto il mondo. La prima domanda che mi viene dal cuore di farti è... Quando ti viene buona coppa a banca? Precisamente! No, è sempre una cosa che hai mai immaginato, un conto corrente e Gigi D'Alessio, questo flusso... Bellissimo! Allora... Vuoi sapere proprio la verità? Si tiene l'estrattoconto... Come si potrebbero analizzarsi che c'è... C'è proprio... Che c'è i soldi di quanto puoi pensare? Addirittura! Eh... Mi sopeggiannimo le altre, le altre, le altre... Ma sai perché? Perché quello che ho ricevuto dal pubblico va l'asseggio a essere i soldi, capito? I soldi servono, per l'amor di Dio. Ma non è che uno puoi... Vedi, fare successo... Ti ho detto prima, il regalo più bello è che tu fai un lavoro che non è un lavoro. Sai quante persone sono laureate e sono costrette a fare i camerieri? Sai quante persone sono intelligenti e sono costrette a fare i comici? Sì. Ah, poi no, perché comunque non ero manca l'intelligenza. Vabbè, Gigi, tu parli così perché sei uscito già parecchio dalla povertà. Io invece è poco, quindi mi piace questo senso di benessere. Guardi, posso dire una cosa? Ci sono persone tanto ricche, ma si sapesse come sono poveri, perché l'unica cosa che hanno sono i soldi. Lo so. Lo so. Lo so. Lo so. Allora, a proposito di questo, mi mandi la prima slide, perché te ne ho pure le fotografie. Ah, tenete pure... Allora, se io dovessi dire, ti conosco un po', la caratteristica principale di Gigi, la generosità. Io conosco persone generose, ma tu sei la quintessenza di questa qualità. Ma la generosità di Gigi D'Alessio, che tu non l'hai esterni, infatti il vero generoso è quello, no? Perché se uno dice è buffo, non è generoso. Ma a volte ti si ritorce contro. Ma guarda, io ti posso dire una cosa, che se uno riceve dalla vita, deve anche dare, perché ti ha buffo. Tanto il capo si può parlare napoletano. Guarda, non lo so perché loro sono... No, no, se io dico la voce da buffo quando mi capisci. No, no. Però loro sa gente pure la fravole. Ah, ok. La generosità, innanzitutto, non è che la fai... è come la preghiera, no? Uno non bisogna pregare solo quando sta poco buono. Se ami la fede, devi pregare sempre. Capite? Non devi aspettare che tieni un problema per pregare. Non devi aspettare che succeda qualcosa per essere generoso. Cioè, se nella vita hai ricevuto, e hai ricevuto più di quanto tu potevi immaginare. Perché, vedi, quando io penso che sono partito trent'anni fa da Napoli, superando tutti i pregiudizi, perché lo sappiamo, per i napoletani, quando si fa successo, perché hai fatto successo? Come mai hai fatto successo? Ti ho fatto una rete, ti ho fatto una annanza, ti ho fatto una... Quindi c'è poca meritocrazia. Se vedi il Napoli, fortunatamente le cose vanno bene, ognuno fa i propri scongiuri. Meno male, ti ho fatto una annanza. Non è vero. Però vedi, è una notizia. Cioè, il Napoli, magari se il campionato lo vince, una squadra del Nord, è tutto normale. Quindi diciamo che per noi l'Italia veramente è messa così. Io amo il sud del mondo, perché l'ho girato tante volte, è perché il sud del mondo c'è sta che la gente caderà, perché sa che significa la sofferenza. Sa cosa significa soffrire. E allora quando tu nasci e tutto quello che sei riuscito a fare te lo sei guadagnato veramente passo dopo passo, passo dopo passo, mattoncino su mattoncino. C'è da dire che quando tu fai tutto e non salti i pezzi di vita, no? Perché quando tu cominci ad affacciarti, ma in qualsiasi settore, si fa il ristoratore, si fa l'avvocato, si fa l'ingegnere, e fai tutto come si deve fare. Per esempio io comunque ho studiato, mi sono fatto dieci anni di conservatorio. Cioè poi dopo le cose, quando arrivi al famoso successo, poi diventi un pilastro di cemento armato. Abbiamo visto in tanti anni tanti pilastri e carte. Questa è la nostra fortuna. La nostra fortuna è quella di saper soffrire, di aspettare il momento giusto, però poi quando arriviamo in un posto ci vuole bene tutti quanti. Perché ci mettiamo in tempo e poi ci vuole bene. Però poi quando ci vuole bene, ci vuole bene assai. Non finisce più, sì. Ma la verità è che poi la generosità uno ce l'ha nel DNA. Io da quello che so tu sei figlio d'arte di generosità. Cioè papà era un uomo generoso. Ma io, guarda, noi i figli siamo lo specchio dei genitori. Io ho avuto, senza offesa, due grandi genitori. Io ho avuto mio padre e mia madre che non ci sono mai girati dall'altra parte. Quelle che tenevano un ubezzipano l'hanno spartuto per tutto qua. Quindi diciamo che è l'esempio come tu cresci, no? Poi ovviamente ci sono anche i casi eccezionali, però io ho avuto due genitori. Io ho cercato di trasmettere gli stessi valori ai figli miei, proprio perché vengo da quel genitore. Io ho avuto veramente... Purtroppo li ho vissuti poco, perché io ho perso mamma quando avevo 19 anni. Non mi ha mai visto cantare. Mio padre sì. Tu pensa che mio padre veniva ai concerti miei. Quando io ho fatto lo stadio San Paolo, che ora si chiama Maradona, mio padre si comprava il biglietto per entrare al concerto. Poi, e io non lo sapevo. Se non andava, finiva il concerto, mi chiamava e mi diceva Gino e papà, sono orgoglioso di te. Per me che l'ha telefonata... Oggi è inutile dirti che mi manca sempre. Però per farti capire, mio padre si comprava il biglietto. Poi magari dietro al palco, perché a Napoli ha già dato un pass, perché mi ha già sbatto, ha già fatto che sto insieme a te. Di tutto e di più. E mio padre... Quindi io quegli insegnamenti che ho ricevuto, così la stessa cosa li ho trasmessi ai miei figli. Ma che meraviglioso. Fatta che papà si accattava il biglietto, che meraviglioso. Ma c'era un episodio che io ho sentito da... Quando l'hai raccontato da Red Ronny, l'ho visto in una clip del fatto della macchina. Mi ha mai colpito assai che tu comprasti la macchina a papà e papà non la usava. No, perché io quando ho fatto il mio primo contratto importante, la prima cosa che volevo comprare, siccome mia madre non aveva mai avuto una casa per sé, o meglio, faceva i sacrifici. Si accungiava nella casa e poi arrivava mio fratello. Mamma mi ha già sposato. E mamma ci rivecchiava. No, ci rivecchiava nella casa e tornava a vivere dalla nonna. Cioè con mio padre. Quindi quando io poi insomma ho cominciato a guadagnare i primi soldi, la mia casa discografica mi regalarono una bella macchina. Non facemmo pubblicità. Allora io disse a mio padre, gli ho detto, papà guarda, ma tu stai in una macchina tutta scassata. Perché mio padre ha sempre lavorato. Gli ho un po' di soldi, gli ho, te li do, ti compro una bella macchina. Lui mi guarda e mi diceva, Gino, papà ricorda che c'è un gigage fatto a te, non tu che hai fatto a me. Mi diceva, però sai che succede? Che ora se la gente mi vede camminare in una bella macchina e vede te che cammini in una macchina scassata, guarda chi è il mio figlio, guarda, che ingrato. Che è. Non ne ha pensato a papà. Ma come fa già a scrivere vicino alla macchina mia? Cioè voleva cattare pure il papà, ma papà non l'ha voluto. E chi non l'ha voluto è bellissimo. È stata molto dura, però alla fine c'è una macchina usata. Vabbè, ho cattato la macchina usata, ma la usata è rimasta, non l'ha mai usata. Poi mio padre è finito e insomma queste sono le cose che io ho ricevuto e tu quello che ricevi quello dai. C'è sta poco a fare. Assolutamente sì, assolutamente sì. Vi mandate la prossima slide. Gigi ieri, Gigi oggi, come sei cambiato? Anche artisticamente hai fatto cose di cui ti sei pentito o non avresti voluto fare? No, 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 no. Guarda, io tengo una canzone che si chiama Si tornasse a nascere dove racconto tante cose belle dentro quella canzone perché ognuno di noi dovrebbe avere una vita per fare le prove. Allora io, per esempio, che a tutti non ti salutare, per esempio. si nascesse un'altra volta e ti avessi piacere di conoscere, la prima cosa me lo fui esso. perché sennò pompa troppo… Esatto, hai capito? No, sono d'accordo con te. Sei d'accordo? Tu appena mi saluto, ci siamo l'aggi fatti. Quindi uno non deve mai pensare… Nella vita si può migliorare. Dicevo Lucio Dalla che solo gli stupidi rimangono delle stesse opinioni. quindi si cresce e quando tu cresci, quindi allarghi la mente, conosci altre persone, ognuno ti insegna qualcosa, ogni giorno ti insegna qualche cosa. Io non è che sono cambiato, sono cresciuto. Quando ho cominciato a scrivere le mie prime canzoni, avevo una visione della vita a 23 anni, a 24 anni. Prima di cantare, non so se lo sai, ma ho scritto canzoni a tutti i cantanti, i famosi cosiddetti neomelodici. Per me sono cantante napolitano, non sono neomelodici. Per me se esistono i cantanti napolitani è basta. Perché sono cantanti che vengono da Napoli. Non è che se un cantante giovane nasce a Roma ci sono neomelodici in Roma. Cioè si dice un cantante, un cantautore romano. Perché i cantanti nostri ci hanno messo l'etichetta, perché? Perché fa gioco, ma ci sono tantissimi artisti bravi che hanno tutte le possibilità di fare mille volte quello che ho fatto io. Però ci hanno messo l'etichetta come si fosse una razza. Ma noi non siamo una razza, siamo cantanti. Poi c'è chi canta boh, chi canta meglio di chi, chi canta meglio di chi l'altro. Sono d'accordissimo, sono d'accordissimo. Questa è un po' la discussione che ho sempre fatto io. Però accantonare questo discorso. Quindi nella vita si cresce. Io ho capito che dovevo anche cantare in italiano per fare lo stadio a Udine. Tu hai cantato pure in italiano, ti devi far capire. Guarda, il mio primo festivale di Sanremo, con Non dirgli mai, io avevo una sola parola in napoletano. Si stasera, la mia casa discografica, gli autori di Sanremo. No, devi togliere, no, non esiste proprio. Ma anche se si stava facendo una rapina. Cioè, va bene, va bene, non vi preoccupate, la tolgo. Quindi la canto tutti in italiano. Poi ovviamente eravamo in diretta. All'epoca, e devo dire ad onore del vero, anche prima di me, lo stesso Nino D'Angelo, ha trovato un muro ancora più alto di me davanti per la lingua napoletana. Perché a noi non è un dialetto, è una lingua. Noi siamo bilingue dalla nascita. La vera nostra lingua è il napoletano. È la prima lingua straniera che cominciamo a studiare. È l'italiano. Ok? Quindi, veramente è sempre stato difficile. Oggi, quando io sento i miei colleghi che riescono a fare dei numeri importanti, che ne sono il rapper, per esempio Joey Lier, no? Che con un disco arriva primo in classifica mondiale, per me è una grande soddisfazione. Joey Lier non dice neanche buonasera in italiano. Quindi voglio dire, è tutto napoletano, ma a me mi fa piacere. Quindi, rompere quei muri, te l'ho detto perché c'è sempre stata questa dogana da Caglianiello a salire, è stato molto difficile. Quindi nella vita si cresce, nella vita si impara. E l'importante è crescere e ricordarsi sempre, come ti dicevo prima, da dove si è partiti. Io so che le canzoni che mi piacciono a me sono quelle che le piacciono a loro. Non è che le piacciono soltanto a me. Poi, come diceva il grande Pino Daniele, ogni scarrafone è bella mamma sua. Io rispetto tutto quello che ho fatto. E se ho commesso degli errori, è giusto, perché chi è che non ha commesso degli errori? Ma in qualsiasi settore, non soltanto nella musica. Anzi, gli errori ti insegnano come devi crescere. Perché se tu non sbagli, quando tutti hanno detto, eh vabbè, LDA, il famoso LDA, che è Luca D'Alessio, che conosco molto bene, quando Maria ha detto, tuo padre non mi ha mai telefonato, perché è giusto così, perché mio figlio dovrebbe avere una corsia preferenziale per arrivare in un posto. Se io voglio male a mio figlio, allora il suo telefono, io lo raccomando, ma se lo voglio bene, il suo telefono non lo ha già proprio usato. Se è bellissimo. Ragazzi, è così, è assolutamente così. Però caro Gigi... E' finuto già? No, io ho visto. Non mi ho realizzato proprio niente per dopo. Ah, ok. A me basta che gioco prima e fai stare a Milano. Allora, no, no, io sai che ho già pensato? Perché ho visto quel Gigi là, che era Gigi... Si ho cagliato i capelli, i capelli sicuramente. Eh, come ti dice a me... Io quel Gigi là, insomma, lo vorrei rivivere. Quello in cui... Già capito, guarda, già si sta indirizzando... Eh, ma io l'ho pure nato, diciamo... Allora, me la fate vedere la prossima slide? Vai. GDA. Allora, carissimo GDA, ma tu sei veramente il padre di LDA? Cioè... Veramente, il tuo desiderio è che un giorno si dica... Gigi, di Alessio... Cioè, che... Insomma, che sia Luca il... A me c'è capita la domanda che può fare. Desincartate. Eh, ma un brogio... Ma non è più? Di solito si dice, sei figlio di... E il mio desiderio è essere il papà di... Ma perché si ha scritto una merda? Cioè, si ha scritto proprio che non si capisce. E perché GDA, le fai cose di LDA, ecco... Puro tu, eh? Che mi ha messo in daffa... Perché siamo Luca D'Alessio. Ma perché ha messo questo fattore? Ce la domanda a Issa. E cosa ne vogliono oggi? Cosa ne vogliono oggi? Ma sei contento del percorso che sta facendo Luca? Sono contento. Quello che gli dico tutti i giorni è che deve studiare. Perché quando studi... Vuoi fare la musica? La musica si deve fare con serietà. Cioè, mi spiego. Noi perché facciamo la musica e pensiamo che la musica è una cosa così. Ma un medico, per diventare medico, deve studiare. Deve studiare, non lo so, mi sembra, intorno ai dieci anni. Perché il medico poi dopo va in sala operatoria e si sbaglia a operare, può ammazzare qualcuno. Certo. È vero che a noi questo non succede. Noi ammazziamo di ammazzare i ricchi con qualcuno. Ok? Però la musica è una cosa seria. È una cosa molto... Cioè, non si deve cercare il successo. Io quando ho cominciato a suonare, ho cominciato a quattro anni, su un organo piccolino della Bontempi. Per me quello è stato il mio giocattolo preferito. Ed oggi a distanza di cinquant'anni ci continuo ancora a giocare. Non io stesso. Oggi gioco col pianoforte, ma sempre con i tasti. Quindi vuol dire che è stata una passione e c'è stata la curiosità di capire perché, che succede se si mette in mano a questo, che succede se si mette in mano a quello lì. E quindi devi essere portato a capire quello che stai facendo. Non si può fare musica solo perché vai a un concerto. Perché poi, come dicevamo prima, se è una cosa che non tiene base, finisci. Invece quando tu il lavoro lo fai seriamente. Già se lo fai seriamente, non è... Lo devi fare seriamente, devi essere pure un poco fortunato e soprattutto intelligente. Ma se non lo fai bene, prima o poi ti troverai in difficoltà. Per me quello più che un pianoforte è come se fosse un giubbotto antiproiettile per me. Perché io quando sono là dietro mi sento padrone. Ma mi sento padrone perché comunque ho fatto dieci anni della mia vita, otto ore al giorno a studiare il pianoforte. Quindi quello che io i consigli che do, non soltanto a mio figlio, chiunque incontro... Perché oggi si vuole arrivare subito al successo. Ed è sbagliato. Perché se tu arrivi subito al successo non apprezzai niente, non puoi capire niente. In qualsiasi settore devi fare l'esperienza, devi fare la cavetta, devi studiare e poi vedrai che se fai i sacrifici poi arrivano anche le soddisfazioni. Un dici a me, sono trent'anni. Cici, io su questa cavetta penso di averne fatta veramente anche un po' troppa. Non è mai troppa la cavetta mai. Hai capito? E' un po' troppa. E' un po' troppa, tu c'hai la pariccia, si è abbandacciato. Se puoi mettere una buona parola, che ne so... Mi chiedono poco. Tu al figlio ti non lo raccomandai, ma a me te lo faccio. Mi raccomando il figlio giustamente. Hai avuto una bella idea. Allora io per esempio chiamò Maria De Filippo, Ricomari, senti, invece ti raccomandano al figlio, posso raccomandare a Peppa? Che ne faccio mai io? Mi preoccupa. Ricordo che ti preoccupa, eh? Tu vanno me là. Ora becchi, eh? Ok. Allora, eh... Ma che richiesta hai? Ma ci troviamo parlando, perché poi ti chiedono che fai, stai distratto. Ma come non è stannanza. Ricordate questo fatto. Camarone do run. E anche perché ho comprato una casa, ho fatto il passo un po' più lungo della gamba, e c'è una ristrutturazione in atto. E mi sa che va a fare bene. Se proprio non mi vuoi fare la raccomandazione, un prestito. Ma che prestito? Che esorda? Mi esamnes, ce lo faccio lì. Esatto. Allora, questo è Luca. Luca piccolo. Questo è quello che tu hai postato prima di Sanremo. Molto teore. Allora, tu l'hai visto questo Sanremo ovviamente perché... Certo. L'ho vissuto da papà, l'ho vissuto da artista con ansia. Ovviamente è inutile dirti che mi sono rivisto io. Solo che io la prima volta che sono arrivato a Sanremo avevo 33 anni, 20 anni fa, 23 anni fa. Sono arrivato con una consapevolezza ed è per questo che gli ho scritto ai 19 anni. Perché a 19 anni sei anche un po' incoscienti, no? Godi di tutto. tanto le cattiverie, le male lingue, ci sarà tutto. Ma a me ci saranno sempre. Ma tanto questo a te servirà per crescere. Goditi il festival di Sanremo, pensa che io ci sono arrivato a 33 anni, tu ci sei arrivato a 19 anni, è già un miracolo. Ho sentito proprio quelle parole che ho scritto sotto il posto, mi sono uscite dal cuore. però sono occupato. È normale che l'ansia, il culto al posto, che si dice. La cosa importante, vedi, ho preferito non andare a Sanremo perché altrimenti avrei dato modo di parlare. Ah, vabbè, è venuto pure qua. Cioè, nemmeno per fare ombra. Perché se tu vuoi bene, anche se sbagliate, i figli hanno sbagliato. Ah, certo. Perché se i figli non sbagliano, non sbarano. Ok? Questa è la sacrosanta verità. Senti, ma che ne pensi di questi due episodi di Sanremo? Quello in blanco e quello che... Allora... Diciamo che prima il festival di Sanremo era concentrato molto sulla musica, sulle canzoni. Oggi la cosa brutta che dietro quelle 28 canzoni che possono piacere, piacciono di più, piacciono di meno, non ha importanza. Io so che ci sta il lavoro dietro ogni canzone. In una canzone c'è sta la sofferenza, c'è sta l'ansia, ci sono tante persone che lavorano intorno a te, le case discografiche, investimenti. C'è veramente un mondo. E quando io vedo che dopo Sanremo, invece di parlare in canzone, con tutto il rispetto se parli in un bacio, e uno capigliato a cavici rosa, a me mi dispiace, perché vuol dire che la canzone è passata in secondo luogo. Prima la canzone era il piatto principale, invece ma è diventato il contorno. E allora questo, se non si ferma questa esagerazione, significa che poi ogni anno Sanremo, sai come siamo fatti? Noi possiamo mettere la coppia cosa succede in più. Secondo me non è stata una cosa bella. Io sono per la libertà sessuale, diciamo, perché per me l'importante è amare. Se sai amare, può amare una maschile, una femmina, si può amare due uomini, si può amare due femmini, anche se vengo da una mentalità, diciamo, tradizionale. Però bisogna prendere atto che l'amore è una parola. Amore, non c'è l'amore maschile e l'amore femminile. Amore è una parola, non c'è l'amore maschile e l'amore femminile. Per alzare un punto di share, ho parlato con i dirigenti Rai, hanno detto che non è che vogliamo fare un 60% di share, ma vogliamo fare 50% di share. Però vogliamo fare... Pippo Baudo mi disse una volta, Gigi, non pensare all'Auditel, pensa pure al Qualitel. Cioè, mi spiego, tu oggi puoi fare pure 80% di share, ma tu, canna, tutto quanto, da calo qua su. Guarda, secondo me studia una televisione, però... Però, Digo, è più probabile che lo share si possa alzare, perché l'unica cosa a Digo si può alzare è sullo share. Perché hai scelto tu? Ok. Però, dipende sempre l'ascolto come lo fai. Io preferisco... No, fu 60% di share, fu 30%, ma che lo 30% che stava davanti al televisore ha apprezzato, oppure non ha apprezzato, una canzone. Certo. Quindi, prendo le difese di quei 28 artisti che erano a Sanremo, e che per me ogni canzone è un'opera d'arte. Poi può piacere o non può piacere? Sono questioni di cui... ma mi piace la Manesta Maratata, a te ti può piacere la Manesta Single, per esempio, non Maratata. Signorina, mi piace. Hai capito? Quindi, però per me il festival è della canzone, e quando vedo queste cose, ovviamente, rimango un po' basito, sai che significa basito, no? È un paese che va in Europa nulla. È una palassa media. È una palassa media. È una palassa media. Senti, ma tu hai molti amici nel mondo dello spettacolo? Ma... Perché? Niente, tu rispondi con il cuore pulito. Io credo di avere tanti amici, me l'hanno dimostrato anche l'anno scorso a Piazza del Plebiscito, sono venuto un sacco di amici. Vogliamo far vedere... Perché Piazza del Plebiscito replica in un modo fantastico. Vabbè, no, per trovare i grafici ci vuole una mezza... Sì. Però poi, ti mangi vedi e poi uscirà, sicuramente. Attimo, intanto le date sono quattro, si replica, si stra-replica, cioè una cosa incredibile, un successore. Eccolo qua. Eccolo qua. Ah, avete fatto pure la pubblicità. Sì, sì. No, è una cosa bella, è una cosa bella perché la notizia... Sai qual è? Che questo pubblico è quello che ci sta vedendo da casa. L'anno scorso erano 30 anni, quest'anno sono 31 anni. La notizia è che sono 31 anni che la gente fa i sacrifici. Compra un biglietto per venire a vedere il concerto. Nel mio caso non ne compra nemmeno uno. Nego perché vengono le famiglie intere, che è la mia più bella soddisfazione che sono stato amato e sono amato da una famiglia, cioè figli, genitori e tricapuri non. Ok? Quindi sono un costo per questa gente, sono un peso. Io vorrei mandare i fiori tutti i giorni perché dopo 30 anni queste persone fanno i sacri... E oggi comprare un biglietto di un concerto è un sacrificio. E io veramente vorrei ringraziarli ad uno ad uno perché fare quattro o forse cinque date a Piazza del Plebiscito. Forse cinque. E quindi veramente è un amore che non si può spiegare questo. Quindi la notizia è questa. Dopo 30 anni, 31 anni, le persone che vengono a cantare con me perché io dico voi non venite a vedere lo spettacolo di Gigi D'Alessio, voi venite a fare il concerto con Gigi D'Alessio No, qua non lo tengo. Non c'è nessuno che possa... che è al telefono di Gigi. Ma chiamare, chiamare. Perché se mi immaginate... Un po' solo, però non so se ce lo vuole dare. Se possiamo chiamare qualche amico tuo importante... Che adesso... Dov'è? C'è già... Aspetta, sta arrivando... Ce lo stanno portando. Vuoi fare la raccomandazione? No, che chiamiamo? Così ce lo facciamo pensare noi, capito? Perché io non ho mai detto di strada. Tanta cosa fa...